Nuova condanna per Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo in carcere perché è ritenuta responsabile dell'omicidio di una paziente 78enne, ricoverata nel reparto in cui lavorava, attraverso un'iniezione di potassio. Per lei, da mesi, c'era anche in ballo un tentato furto dal portafogli di un paziente del nosocomio lughese. Il giudice ha ritenuto che l'intenzione di rubare ci fosse ed ha condannato la Poggiali a tre mesi di carcere e 100 euro di multa per il tentato furto dal portafogli di un anziano che si trovava in ospedale per assistere la moglie in fin di vita. In virtù del danno patrimoniale modesto si è passati da quanto aveva chiesto la procura in prima battuta, due anni di carcere e 900 euro di multa, al tentato furto e visto che formalmente l'ex infermiera è incensurata, la condanna è stata limitata. Ricordiamo infatti che la condanna all'ergastolo per omicidio non è ancora passata in aggiudicato. Nel periodo del tentato furto era stato sottolineato dalla procura come erano stati denunciati ben 27 furti ad esclusione di un caso, la Poggiali era sempre presente. Ovviamente posizioni discordanti di accuse difesa in merito a questa vicenda e la prima ha definito bieco anche il solo tentativo di rubare denaro ad una persona in letto di morte. Per la difesa l'imputata invece andava assolta. Entro i prossimi tre mesi andrà presentata la motivazione e poi la difesa potrà fare appello.